Johnson tra i protagonisti assoluti all'Icata per la polisportiva Santa Maria partiamo dal pareggio un punto preziosissimo arrivato proprio all'ultima occasione eh sì come come dici tu un punto prezioso che come standard del campionato meglio non perderci abbiamo guadagnato un punto proprio pazzesco va bene così si è entrato nella secondo tempo un gol ti sei procurato il rigore che poi ha consentito a Tandara di realizzare il gol del 2 a 2 nel mezzo anche diverse potenziali occasioni pericolose create un Johnson che vuole riprendersi un ruolo importante in questa parte finale di stagione eh sì io penso che se uno va in panchina deve anche leggere la partita quando entra in campo deve dare una mano alla squadra mi è andato bene diciamo fatto questo gol e presso quello rigore c'è la punizione per il rigore è questo posso dire un gol importante è il terzo se non ricordo male che finale di stagione aspetta questo Santa Maria anche oggi abbiamo visto una squadra che insomma stava arrivando la sconfitta ma assolutamente immeritata nel secondo tempo illicata a trovare il gol nell'unica occasione che ha fatto sì ormai mancano tre partite e dobbiamo giocare a mille queste partite dobbiamo dare tutto e vedere come va a fine stagione grazie mille complimenti grazie grazie a te